gruppo di UEFA Europa Conference League. Io saluto e do il benvenuto con grande piacere all'allenatore della prima squadra del football club Lugano Mattia Crocitorti e alla difensore centrale Lucas Mai. Li ringrazio per la loro partecipazione. Siamo in diretta streaming sui nostri canali social per cui chiedo a chi porrà le domande di farlo presentandosi con nome, cognome e testata che rappresentate. Credo di aver detto tutto, quindi sono alla parte degli indisponibili. La lista è piuttosto lunga per quanto riguarda l'FC Lugano e comprende Valenzuela, Osigwe, Bottani, Girgic, Zellar, Vladi e Alizeta. Lucas Mai parla tedesco, il parla allemand. S'il te plé tu poses le questione en français, e poi la traduzione in allemand e la traduzione dell'allemand al francese. Domande. Buonasera, Massimo Solari, Corriere del Ticino. Voglio iniziare con una curiosità per Mattia Crocitorti che studia sempre, però ecco, vediamo. Hai già sentito parlare del miracolo di Bruges? No. Per farla breve, dagli europei del 2000 la Spagna si qualificò ai quarti battendo la Jugoslavia in due minuti nei tempi di recupero e giocarono appunto qui, insomma, questo per chiederti se domani, insomma, per vincere, come fece la Spagna, allora servirà o servirebbe un miracolo, ecco, per come siete, per come arrivate. No, non penso che occorra un miracolo, penso che occorra una grande prestazione di tutta la squadra, penso che per 90 minuti dobbiamo avere una concentrazione ancora maggiore rispetto a quello che abbiamo avuto nelle tre precedenti partite di Coppa, dobbiamo curare ogni dettaglio, dobbiamo veramente eliminare al minimo la percettuale degli errori e sono convinto che possiamo fare una grande partita. Sono sicuro che sì, le assenze peseranno, ma chi è venuto qua ha fame, chi è venuto qua sa per cosa è venuto a fare, siamo venuti qua per portare a casa tre punti, sappiamo che possiamo giocarcela, puoi sicuramente vincere in questo stadio che comunque, come hai detto te prima, trassuta di storia, perché solo a vederlo ti viene veramente voglia di giocare, ti viene veramente voglia di buttarti un po' dentro, diciamo nel fango, nella pioggia, ecco, dunque penso che è molto ben chiaro a tutti quello che siamo venuti qui a fare e sicuramente se portiamo a casa tre punti è un'impresa, però non penso proprio che si debba parlare di miracolo. Quindi anche domani non firmi per un pareggio? No, 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 per come ho visto la squadra ieri, sicuramente ho visto una squadra che ha voglia di rivincita dopo l'ultima brutta partita di campionato, dove sicuramente almeno per il primo tempo non abbiamo fatto vedere il Lugano che io conosco, dove non siamo riusciti a tirare in porta, dove non siamo riusciti a essere pericolosi, dove siamo riusciti solo a eliminare l'avversario, facendogli fare pochi tiri in porta, ma il Lugano che conosco io è sempre un Lugano molto propositivo, un Lugano che ha sempre voglia di fare la partita, è quello che non è accaduto, dunque io penso che quello che vogliono dimostrare ai miei ragazzi è ancora di essere una squadra pronta per queste battaglie e a dire la sua fino alla fine in questa competizione europea che sappiamo che comunque domani è una partita dove ci sono dei punti preziosi, perché se loro vincono questa partita loro praticamente sono qualificati, dunque quello che vogliamo fare noi è capovoggere la situazione e cercare di arrivare con un risultato positivo alle ultime due partite. Paolo Laurenti, RSI Radio Svizzera, volevo chiedere a Mai, il Lugano sta subendo a livello di reti qualche gol, forse di troppo, Luca Smai che tipo di contributo può dare e il suo recupero dopo l'infortunio, a che punto è, a quanto gli manca per arrivare al 100%? Lugano stanno chiedere a tutti i ragazzi, qualunque partito piacere è la squadra e come potente sono già fatta? Con la fatta di fare la vostra scena, la vostra scena è già da 100%? Io credo, con la fatta di essere, la vostra scena è in 100% di tutto, anche se ho già fatta da l'infortunità, anche quando abbiamo già 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 loro spiego, sono mi sentito di un progetto di più, ma sono da l'infortunità più, ma con gli agenti, la vostra scena, Il gioco più il gioco il gioco il gioco il gioco. oppure la giornata e davvero meno meglio e venire in quanto vuoi che sia un giocatore e che sia un giocatore e se potete scegliere a volte, sia uscito per un giocatore e penso che stiamo a quella della settimana ora siamo più o meno chiaro ok è tutto stato ma ti devi ancora iniziare Grazie per l'Italia. 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 il campionato, allora quando il arriva ici, quando noi giochiamo con la 6e place, vuol dire che la loro confianza non è al superniveau, allora noi cerchiamo di mettere in difficoltà la Brugge, dimanche un ancien giro di Brugge di Lugano, il ha fatto due buti e noi speriamo di ripeter ce che ha fatto il nostro amico dimanche passato. Grazie. Della Valle del Ticino hai già deciso come giocare? Certo. E lo farai senza attaccanti di fatto? Di fatto abbiamo un attaccante in rosa che è Boris Babic, però abbiamo dei giocatori offensivi che sono Stefan, che sono Cimignani sicuramente abbiamo dei giocatori esterni che comunque hanno buona propulsione offensiva come Spinosa, so che Marquez può giocare anche qualche metro più avanti senza problemi sappiamo che il Brugge da quella parte con Scovolse è la parte che ci ha messo un po' più in difficoltà nella partita d'andata dunque è anche possibile vedere giocare Marquez qualche metro più avanti dunque sappiamo che comunque sono una squadra a cui piace attaccare meno difendere dunque cercheremo anche di ripartire con la velocità dei vari Marquez dei vari Spinosa dei vari Steffen dei vari Cimignani lo stesso Babic dunque cercheremo di fare una partita sicuramente non picchiando su palla perché evidentemente avremo pochi attaccanti di strutture stazza che possono fare questo tipo di lavoro domani Mattia perché come abbiamo visto Babic pensi che possa reggere il palco scenico europeo? ma sicuramente se qua con noi pensiamo che possa reggere questo livello sicuramente non è facile per lui perché tante volte questa stagione ho preferito gli altri due attaccanti a lui non posso sicuramente chiedere il ritmo e l'intensità che magari hanno giocatori che hanno fatto 15-16 partite di tolare quest'anno però sono sicuro che su una partita secca ci può dare una mano purtroppo si è trovato anche lui in un primo tempo difficile quello di Lausanna dove veramente abbiamo giocato molto molto poco nella metà campo avversaria tutti questi infortuni che sono un po' la replica di quello che succedeva l'anno scorso avete un'idea di perché succedono? ma guarda sicuramente non siamo contenti di questa situazione perché ci piacerebbe venire a giocare queste partite con tutta la rosa completo purtroppo in un momento di anche grossa stanchezza siamo andati a affrontare una settimana come quella scorsa tutta su un campo sintetico abbiamo avuto delle piccole noie muscolari come quelle di Vladi siamo stati un po' sfortunati perché Saipi e Sera vengono da due distorsioni alla caviglia che derivano proprio dal campo purtroppo ecco abbiamo perso Giorgi Cebottani anche loro dopo una partita di mercoledì o dopo l'allenamento che abbiamo l'altra partita di sabato ecco sicuramente non facciamo fatica e questo è un dato di fatto a gestire la settimana completa che quando cambiamo il terreno da gioco e sicuramente su questa cosa dobbiamo dobbiamo lavorare di più io in primis dobbiamo capire delle dinamiche perché non è possibile che ogni volta che giochiamo partite contro Young Boys su Losanna lasciamo dietro sempre una serie di infortuni troppo lunghi pensi che sostanzialmente c'è un problema anche di preparazione o è come dicevi tu il campo può essere l'infortunio traumatico che quello succede sempre guarda fino a dopo la partita con lo Young Boys quest'anno abbiamo avuto veramente pochi anche infortuni pochi muscolari perché Bottani era stato fuori dopo una grande botta contro il Bruges non avevamo sicuramente il numero degli infortuni dell'anno scorso tranne quello di Valenzuela un piccolo stranamento per Aliseda questa settimana purtroppo invece è stata veramente pesante sotto questo punto di vista e dunque devo essere bravo anche io a analizzare i carichi di lavoro che facciamo ogni volta che cambiamo campo siamo stati anche un po' sfortunati e lo dico tranquillamente perché le settimane precedenti siamo dovuti anche spostarci da Cornaredo siamo dovuti andare a allenarci su un nuovo campo canobbio che era molto che era molto che era molto duro dove i giocatori comunque hanno trovato delle grosse difficoltà perché comunque noi abbiamo dei problemi strutturali ma lo sappiamo e questo non dobbiamo nasconderci ma questo è il prezzo da pagare per avere fra tre anni quello che tutti vogliamo in Ticino dunque per avere questo stadio dobbiamo sapere che noi ci dobbiamo allenare un po' di qui un po' di là e dobbiamo sempre trovare le situazioni giuste però con la società e con la città il dialogo è sempre aperto e dunque adesso non voglio neanche aprire un caso troppo grande però ecco devo essere sicuramente io e il mio staff più bravi a capire i carichi quando andiamo forse a lavorare sul sintetico come settimana scorsa perché prima di Lausanna aveva diluviato due volte anche a Lugano c'eravamo tutti da allenare su quel campo voglio chiedere sia a te che a Lucas la questione reti subite da palla ferma o da corner l'idea di cambiare sistema di giocare puramente a zona eviterebbe di dover stare vicino all'uomo che è quello che in questo momento si vede fate fatica a fare può essere una soluzione? guarda evidentemente ho anche pensato a questa situazione l'unica cosa che ho avuto allenatori con cui abbiamo lavorato in questa maniera mi ricordo un maestro di questo era sicuramente Gianni della Casa l'unica cosa che per poter lavorare a zona sui corner perché sulle punizioni laterali lo facciamo già ci vuole del lavoro e purtroppo noi non abbiamo quel tempo adesso necessario per poter lavorare per poter provare per poter essere convinti di quello che stiamo facendo adesso stiamo cercando di lavorare più che altro su delle situazioni mentali perché è la verità che non vogliamo più perdere il duello nella nostra area sappiamo che non vogliamo dare la colpa a nessuno giustamente Lucas prima ha parlato non è mai solo una colpa della marcatura individuale non dobbiamo far arrivare cross così troppo facili dunque sono discorsi che noi facciamo spesso che noi cerchiamo di analizzare che dobbiamo veramente cercare di abolire perché siamo stati bravi dopo Bruges non è il primo fattore contro i reti ma a un certo momento valuti anche o tieni in considerazione eventualmente la differenza reti c'è qualcosa a cui dovete anche fare attenzione visto che comunque la classifica potrebbe essere molto stretta fra chi segue eventualmente il Bruges ma sicuramente è un fattore molto importante a cui dobbiamo fare molto caso però se il nostro obiettivo domani è quello di portare via un risultato positivo da qua viene sicuramente prima a capire quanti quello abbiamo fatto quanti quello abbiamo subito queste sono discussioni che magari devono essere più aperte nelle ultime due giornate adesso è una partita e sarà un turno decisivo perché dall'altra parte Besittas e Bodoglimt si giocano delle partite importanti perché sicuramente Besittas è la squadra che sta peggio nel girone ha bisogno di una vittoria a casa propria per potersela giocare ancora e una vittoria vorrebbe dire che portarsi a quattro come lo siamo noi prima della partita dunque già prima della partita di domani ci sono delle dinamiche che potrebbero essere già delineate con un Bodoglimt che scappa o un Besittas che viene a raggiungersi per poi giocarsi tutto nelle ultime due partite più che altro guardiamo magari prima della partita quello che fanno gli altri poi ci concentriamo e cerchiamo come ho detto prima di fare quello per cui siamo venuti qua ossia portare a casa un risultato positivo prima ho chiesto al mister insomma se conosceva questo precedente insomma del miracolo di Bruges magari chiedo a a Luca Smae che che conosce bene insomma la realtà del Bayern Monaco che forse è anche un tifoso del Bayern Monaco se in qualche modo la sfida della sfida di Coppa che ha visto il Sarbrücken fare un'impresa battendo il Bayern Monaco può essere di ispirazione domani in qualche modo spiellen das muss un smut machen mi è venuta pure la tosse con Marquez so che la società sta parlando sicuramente non penso che abbia fatto qualcosa di completamente grave perché se non ha visto il VAR se non ha visto gli arbitri non abbiamo visto noi sicuramente non ha fatto qualcosa di eclatante però vediamo un attimo la situazione penso che la società ne parlerà nei prossimi giorni oggi ci concentriamo solo su quello che deve accadere domani mentre per quanto riguarda Mora onestamente io quando vedo i gol che ha fatto sono molto contento i giocatori che sono passati di qui che fanno bene dopo essere andati via da noi sicuramente ci riempiono il cuore come lo stesso che era successo per l'Ovric ci fa veramente piacere quando qualcuno di noi fa un salto e dimostra di essere un giocatore importante penso che per la società sia interessante perché fa vedere come un biglietto da visita in Lugano diventa ancora più attraente sicuramente il non avere qui a Mora è una scelta giusta i giocatori devono fare un passo uno step su dei palcoscenici più alti io sono molto contento che chi è arrivato al posto di Amora si sta comportando in maniera super che è Cimignani dunque non guardiamo al passato siamo solo contenti per loro ci godiamo il presente sperando che domani possa dimostrarlo una volta di più grazie mister grazie Luca Smile il presente almeno il futuro molto prossimo è l'allenamento 15 minuti alle 18.30 aperta anche a giornalisti e fotografi grazie a voi che siete intervenuti che siete qui a seguirci grazie a chi ci ha seguito via streaming e buona serata a tutti appuntamento con la partita domani qui alle 21 grazie